Ciao a tutti. Benvenuti sul nostro canale. Siamo felici di vedervi nuovamente e di poter condividere con voi una nuova storia, ricca di emozioni e di colpi di scena. Prima di immergervi nella narrazione, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, per ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Preparatevi a entrare nel mondo di Zeynep, Mehdi, Baris e tutti gli altri personaggi. Senza ulteriori indugi, iniziamo. Mentre Zeynep trascorre del tempo con Sultan, Sakine ed Emine, Mehdi cerca rifugio presso l'abitazione di Nu, in cerca di comprensione. Tuttavia, Nu è assente e sta in realtà passeggiando in compagnia di Gemile. Mentre camminano, discutono delle tensioni tra Mehdi e Zeynep. Gemile si trova a lottare con i sensi di colpa, per aver rimproverato aspramente il fratello e, allo stesso tempo, per vivere un momento sereno al fianco di Nu quando le persone intorno a loro sono in crisi. Proprio mentre sono immersi in questa conversazione, Mehdi fa la sua comparsa. Anche se Gemile teme una reazione negativa, Mehdi è lì solo per cercare sostegno da Nu e comprensione da parte di sua sorella. Gemile gli fa notare quanto Zeynep sia stata spaventata dalle sue azioni, sottolineando come lei possa comprenderla dato il suo passato tormentato con un marito violento. Sebbene per Zeynep potrebbe essere difficile perdonarlo, Gemile suggerisce a Mehdi di fare un passo indietro, abbandonare il suo orgoglio e la mentalità patriarcale tradizionale, e cercare sinceramente il perdono di Zeynep. A casa, Zeynep comunica finalmente a sua madre Nermin la fine del suo matrimonio. Le due si parlano subito al telefono, mentre Mehdi, a casa di Nu, appare sommerso dal rimpianto, sembrando realizzare i danni causati dai suoi errori e quanto dolore abbia inflitto a Zeynep e ai suoi cari. Poco dopo, Mehdi va da Sultan, disperato, cercando il perdono di Zeynep. È devastato e implora il suo perdono, dichiarandole che per lui Zeynep è non solo la moglie ma anche la migliore amica e la persona più importante della sua vita. Le fa ricordare l'importanza di Kibrit nelle loro vite e i sogni che avevano in comune. Adesso, è consapevole del dolore che ha causato a Zeynep e le promette, con sincero pentimento, che cambierà e farà il possibile per non deluderla mai più. Tuttavia, Zeynep risponde che non vede come possano andare d'accordo date le differenze di carattere e il modo in cui lui gestisce la rabbia. È risoluta nella sua decisione e crede fermamente che il divorzio sia l'unica soluzione. Aggiunge che forse un giorno potranno essere amici, ma la loro relazione come marito e moglie è finita. Mehdi, devastato, non sa più cosa fare per persuaderla, e cade in ginocchio davanti a lei, implorandola nuovamente. In seguito, la scena cambia e ci troviamo in tribunale, dove un giudice domanda a Zeynep e Mehdi se siano certi della loro decisione di divorziare. Zeynep, sicura, risponde affermativamente, mentre Mehdi esita. Successivamente, ritorniamo alla scena con Mehdi ancora in ginocchio di fronte a Zeynep, rivelando così che la narrazione aveva anticipato gli eventi di quattro giorni. La scena in cui Mehdi è in ginocchio davanti a Zeynep è testimoniata da Eminé, che corre ad informare le altre in casa. Sakine spera segretamente che Zeynep possa essere indotta a perdonare Mehdi, considerando il suo gesto significativo e umile di inginocchiarsi. Sultan, al contrario, rimane ferma nelle sue convinzioni e spera che Zeynep non ceda, invitando Sakine a non intervenire nella decisione della figlia. Zeynep, nonostante le suppliche di Mehdi che le chiede di dimenticare tutto e di non distruggere il loro matrimonio, gli ribatte che è lui, con il suo comportamento, a avere distrutto il loro legame. Ha già fatto molti sacrifici per mantenere viva la relazione, ma lui ha tentato di soffocarla, rinchiudendola e diventando violento. Quindi, gli riafferma con fermezza che il loro matrimonio è giunto al termine e rientra in casa. dove viene accolta e confortata da Sultan, Sakine ed Eminè. Eminè e Sultan la incoraggiano a seguire il suo istinto e a considerare solo ciò che sente essere giusto per sé. Nel frattempo, Mehdi, tornato da Nu, e in preda all'alcol, versa lacrime maledicendo il destino, per come sono evolute le cose con Zeynep. Si lamenta anche del comportamento di Zeynep, accusandola di aver abbandonato troppo facilmente il loro amore, ignorando le sue scuse e i suoi motivi. Il giorno seguente, Zeynep lascia la casa molto presto, per ritirare la documentazione per la domanda di divorzio. Questo lascia Sakine delusa, che invita la figlia a non precipitarsi, considerando che Mehdi ha messo da parte il suo orgoglio maschile inginocchiandosi ai suoi piedi. Se Zeynep presenterà così rapidamente la richiesta di divorzio, Sakine teme che Mehdi reagirà molto malamente. Tuttavia, Zeynep fa tacere la madre, sostenendo che non può perdonare Mehdi solo perché si è scusato e che nemmeno sua madre dovrebbe farlo. Così, prende la documentazione del divorzio e lascia la casa. Sulla strada, incrocia Mehdi e gli porge i documenti del divorzio. Lui, ancora sotto l'effetto dell'ubriacatura della notte precedente, reagisce passivamente, dicendo a Zeynep di fare ciò che desidera con quei documenti. Zeynep si reca da Sultan per ricordarle dell'incontro con l'agenzia immobiliare, poiché Sultan servirà come garante per l'affitto del suo nuovo appartamento. Nel mentre, Zeynep si incontra con Ermin, che l'attende in un parco, pronta a offrirle il suo sostegno incondizionato per la decisione intrapresa. La madre di Zeynep esprime il suo orgoglio per la decisione di sua figlia di divorziare. Ritiene che, nonostante Mehdi non sia una persona malvagia, lui non avrebbe mai potuto accettare l'indipendenza e la forza di Zeynep, semplicemente non erano compatibili. Zeynep esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e informa la madre che sta cercando un appartamento dove potranno vivere tutte insieme, inclusa Sakine. Mentre Ermin sta cercando un taxi, Zeynep riceve una chiamata da una collega che le rivela che Baris ha preparato una sorpresa per tutto l'ufficio. Da parte sua, in officina, Mehdi confida a Nuh il suo desiderio di rivoluzionare la sua vita, progettando di vendere l'officina di famiglia e restituire le quote ai membri della famiglia, con l'idea di avviare un nuovo progetto con Nuh, proponendogli di diventare partner commerciali. Con la sua conoscenza delle macchine e le connessioni di Nuh, progettano di aprire un rivenditore di pneumatici per grandi imprese. Nuh è onorato dalla proposta, ma non può fare a meno di riflettere se la decisione di Mehdi sia precipitata e influenzata dalla sofferenza per il suo matrimonio in Frantumi. Mentre stanno affiggendo l'annuncio di vendita dell'officina, Buran arriva e cerca di provocare Mehdi, offrendosi di acquistare poiché un tempo apparteneva alla sua famiglia. Mehdi tenta di mantenere la calma, ma quando Buran menziona suo padre, solo l'intervento di Nuh evita che la situazione degeneri in un confronto fisico. Zeynep e Sultan si dirigono all'agenzia immobiliare, dove, oltre alla gente, è presente anche il proprietario dell'abitazione. Quest'ultimo, con un atteggiamento scortese, si rivolge a Zeynep, esprimendo la sua riluttanza a concedere in affitto la casa a donne sole, che, secondo lui, senza la presenza di un uomo sarebbero malviste nel quartiere. Inoltre, dubita che una donna possa gestire autonomamente il pagamento regolare dell'affitto, e pertanto rifiuta fermamente di affittare l'abitazione. Zeynep, indignata, rimprovera severamente l'uomo, tacciandolo di essere arcaico e ingiusto. L'agente immobiliare, invece di intervenire per mitigare la tensione, resta inerte, guadagnandosi così il rimprovero sia di Zeynep che di Sultan. Di fronte a tale ingiustizia, entrambe insistono per visualizzare un altro immobile disponibile, senza accettare compromessi sulle loro legittime richieste. Effettivamente, vi è un'altra abitazione disponibile, sebbene sia più costosa, decidono di visitarla immediatamente. Si tratta dell'ultimo immobile disponibile attraverso quell'agenzia, ed è ampio e di gran fascino, ma anche dal costo elevato. Quale potrebbe essere la soluzione, quindi? Zeynep suggerisce a Sultan di recuperare la caparra che ha già pagato per il suo appartamento e quello di Eminè, proponendole di condividere la nuova abitazione. Sultan, estasiata, acconsente con entusiasmo. Ecco, quindi, la risoluzione, prenderanno in affitto tale abitazione e conviveranno Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan e Deminè, formando un'unica grande famiglia composta da donne resilienti e autonome. L'unico aspetto da chiarire riguarda la situazione lavorativa di Zeynep. Essendo ancora in tirocinio, le occorrerà un documento, firmato dal suo datore di lavoro, che certifichi la sua occupazione presso lo studio legale di Baris. Nel mezzo di tutto ciò, Buran fa visita a casa di Mehdi con l'intento di incontrare la sua amata Mujgan. Le fa una chiamata invitandola a trascorrere una giornata in segreto, per evitare complicazioni con Mehdi. Nel frattempo, Mujgan ha già predisposto lo svuotamento delle stanze di Sakine e Zeynep, facendo rimuovere tutti i mobili. È proprio in quel momento che fanno il loro ingresso Mehdi e no. Mehdi interrompe prontamente le operazioni di svuotamento e chiama Gemile per discutere della sua intenzione di vendere l'officina. Mentre ciò accade, Zeynep raggiunge il suo luogo di lavoro, dove tutti i collaboratori dello studio legale si sono riuniti in un parco. La sorpresa di Baris comprende una giornata in natura con barbecue e attività sportive, offrendo anche il tempo per discutere di lavoro. Un modo scelto da Baris per mostrare la sua gratitudine al team e ridurre lo stress lavorativo. Anche se Zeynep cerca di godersi l'evento, la sua mente è occupata dal pensiero di come ottenere da Baris il documento firmato necessario per l'affitto della nuova abitazione. Parallelamente, nella residenza Caraca, Mehdi annuncia alle sorelle la vendita dell'officina. Delineando come ciò rappresenti un'opportunità di crescita finanziaria e una liberazione dai limiti imposti dalla vecchia comunità, Gemile ripone fiducia nel discernimento del fratello e accetta senza indugi. Al contrario, Mujgan sospetta che la decisione di Mehdi sia stata in qualche modo influenzata da Zeynep. No, partecipante alla conversazione, sostiene Mehdi nell'illustrare i benefici della loro futura collaborazione, sottolineando l'importanza di un approccio razionale. Nel frattempo, Mujgan riceve messaggi da Buran, che ha inviato un'auto per trascorrere la loro giornata romantica insieme, costringendo Mujgan a lasciare la conversazione in modo precipitoso. Si dirige verso il piano superiore, seguita da Mehdi, che però si sofferma nella loro vecchia camera, immerso in pensieri nostalgici e riflessioni. Nel frattempo, Nu e Gemile cogliendo l'occasione, condividono i momenti di gioia e di speranza del loro amore, in netto contrasto con le esperienze degli altri. Nu propone a Gemile di passare del tempo fuori, mentre Mujgan, isolata in bagno, cerca di coordinarsi con Buran. Zeynep, da parte sua, riesce a trovare il momento giusto per illustrare a Baris la sua situazione personale, rivelando così il suo imminente divorzio. Baris, che ha già attraversato un divorzio a causa dell'insoddisfazione dell'ex moglie per il suo impegno lavorativo, comprende profondamente le difficoltà di Zeynep. Si mostra comprensivo e accetta di firmare il documento che conferma l'impiego di Zeynep nel suo studio, fungendo da garante per il nuovo affitto. Durante la conversazione, discutono anche del caso di Nermin, che Zeynep spera possa essere gestito dallo studio legale di Baris. Di conseguenza, decidono di organizzare un incontro con Nermin per discutere il caso più nel dettaglio. Concludono di incontrarsi quella sera stessa in un ristorante per presentare il caso in maniera formale. La sera, Nu e Gemile decidono di vedersi in un bar, e il dialogo verte nuovamente sulla scelta di Medi di cedere l'officina. Gemile condivide le preoccupazioni di Nu, temendo anch'essa che il fratello agisca più per il dolore che per una meditata riflessione. Tuttavia, mentre il dibattito sul futuro di Medi continua, Nu tenta di indirizzare la conversazione verso i loro sentimenti, sottolineando quanto sia inutile consumarsi per le vicende altrui. Le rivela che, nei momenti di tristezza, i pensieri rivolti a lei sono l'unico suo rifugio, l'unica fonte di felicità. Gemile, colpita dalle sue parole, ammette che anch'essa trova conforto nei pensieri di lui, ritrovando così la pace del cuore. Il legame tra Gemile e Nu si sta rafforzando, e i sentimenti reciproci appaiono sinceri e profondi. Alla residenza di Sultan, sia Zeynep che Nermin sono pronte per la cena con Baris, per discutere del caso contro Ekrem. Sakine, vedendo la figlia così agghindata e attraente, la rimprovera, ricordandole che, essendo ancora sposata, non sarebbe appropriato per lei uscire di sera con un altro uomo, rischiando di scatenare pettegolezzi nel quartiere e che la notizia potrebbe giungere anche a Medi. Tuttavia, Nermin cerca di placare i suoi timori, sottolineando che sarà unicamente un incontro professionale e che anche lei di parteciperà. Sultan e Demine augurano una buona serata a Zeynep e Nermin, mentre Sakine resta turbata dalla situazione e decide di uscire per riflettere. Fuori, incontra Medi e, nel tentativo di persuaderlo a riconquistare la figlia. Gli racconta delle difficoltà incontrate nel trovare una casa a causa dell'assenza di una figura maschile e come Baris si è intervenuto in aiuto di Zeynep. Medi, incuriosito, chiede a Sakine i dettagli dell'agenzia immobiliare per offrire il suo aiuto, e lei, felice, glieli fornisce. Lo informa inoltre dell'incontro serale tra Zeynep e Baris per trattare i casi di Nermin, incoraggiandolo a intervenire per riavvicinarsi a Zeynep. Dopo il loro incontro, Sakine rientra e esprime nuovamente il suo disappunto, verso la figlia riguardo al suo vestiario e al luogo d'incontro con Baris, suggerendo che il loro matrimonio sia forse concluso proprio a causa di un episodio simile con Baris. Le parole di Sakine non trovano accoglienza in Zeynep, e nemmeno Nermin tollera tali considerazioni, zittendo decisamente Sakine. Infine, le due donne escono, dove Baris le attende in auto. Da lontano, un osservatore inaspettato, Medi, decide di seguire la macchina di Baris in taxi. E così conclude la nostra storia per oggi, speriamo che vi sia piaciuta e che vi abbia tenuti con il fiato sospeso fino all'ultimo momento. Se avete apprezzato il video, vi preghiamo di lasciare un mi piace e di condividere il nostro canale con i vostri amici e familiari. E ovviamente, non dimenticate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, così non perderete nessuno dei nostri futuri racconti ed episodi. Desideriamo anche sentire la vostra opinione. Cosa pensate della situazione in cui si trovano i nostri personaggi? Come vi immaginate che si evolverà la loro storia? Lasciate un commento qui sotto con le vostre idee e riflessioni. Ed iscrivetevi al canale. Non vediamo l'ora di leggervi. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto.